Operazione della Guardia di Finanza che attraverso il nucleo di pulizia economico-finanziare di Crotone ha eseguito un'ordinanza a due residenti a isola al capo Rizzuto, Salvatore Parisi e Francesco Savoia, accusati di usura e tentata estorsione gravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. Il giudice distrettuale Chiara Esposito ha disposto alla misura cautelare in carcere per entrambi gli indagati con l'aggiunta del sequestro preventivo di 151.200 euro a Salvatore Parisi, mentre per Francesco Savoia è stata prevista la confisca di 27.000 euro corrispondenti al valore degli interessi usurari imputati dalle parti offese. L'inchiesta, ancora nella fase delle indagini preliminari, parte dall'ipotesi secondo la quale i due indagati avrebbero concesso crediti di denaro a tassi usurari coinvolgendo imprenditori del territorio in difficoltà economica. In un caso si sarebbe anche verificata una intimidazione ai fini della riscossione del credito usurario. Grazie a tutti.